Azzilanti, non è possibile! È inaudito! Aissi, la nostra fonte di potere è appena sparita! Il potere che abbiamo acquisito è tornato in quel peschio di drago! Streghe, abbiamo subito bisogno di un altro piano! Muoviamoci! Sembra che Bloom ce l'abbia fatta di nuovo! Sei riuscita a sconfiggere Aissi e la sua ridicola collana? Sì, sei stata bravissima, Bloom! Winks, voi avete combattuto coraggiosamente e salvato la scuola di Tirna Nog! Guardate! Oh, ma è fantastico! Allora questo significa che siamo riusciti a dimostrare alle bacchette magiche il nostro valore! Coraggio, Winks! Questo è il momento che abbiamo tanto aspettato! Le bacchette ci hanno riconosciute come loro legittime proprietarie! E adesso è finalmente giunta l'ora di entrare nel fantastico mondo del Legendarium! Magic Winks! Magic Winks! Mythics! Mythics! Nuova dimensione magica! Mythics! Per un'avventura unica! Cata nella fiamma del drago! Del libro magico! Con te è un Mythics! Nora! Fata della natura! Mythics! È un mistero da scoprire! Viene in vola! Aisha! Fata dei fluidi! Cali di magia! Mythics è la musica! Musa! Fata della musica! Una missione tra creature mitiche! Mondi nuovi, mondi strani! Stella! Fata del sole splendente! Tra le pagine del regno delle favore! Oltre ogni macina... Tecna! Fata della tecnologia! Fata della tecnologia! Winks! Ce l'abbiamo fatta! È veramente mitico il look del potere Mythics! Questo sarà sicuramente il passaggio per il mondo del Legendarium! Proprio così, Winks! Siamo di fronte a quella che viene chiamata la saggia porta dei mondi! Con lei che tutto sa! Se le ricerche che ho fatto sono esatte! Benvenute a tutti voi, Winks! Siete le nuove padrone delle pacchette leggendarie! È un onore accogliervi! A causa della malvagità delle streghe, il potere del mondo del Legendarium sta velocemente sfociando nel mondo reale! E se non lo fermiamo immediatamente potrebbe addirittura distruggere l'universo magico! Stiamo cercando aiuto! Il nostro scopo è chiudere il Legendarium una volta per tutte!